Il sindaco di San Fratello, Salvatore Sido Tipinto, sosterrà la candidatura a sindaco dell'attuale assessore al bilancio, Giuseppe Princiotta. Lo ha detto a più riprese che non si sarebbe ricandidato a sindaco, ma ora si è detto pronto in modo che l'amministrazione sostenga un componente del suo esecutivo. Avevo già deciso all'inizio del mandato, che sarebbe stato il mio ultimo mandato, perché è giusto lasciare spazio anche agli altri. Poi ho avuto delle problematiche mie, degli impedimenti familiari purtroppo e quindi su quella mia decisione c'è stata un'ulteriore conferma della mia non candidatura. Però sono certo che questa squadra guidata dal dottore Princiotta, che noi supporteremo in maniera totale, perché riteniamo di dover continuare questa nostra attività lavorativa, dove c'è stato l'impegno da parte di tutti, per cui tutti quelli che c'erano ieri nella coalizione amministrativa si riproporranno con alla guida il dottore Princiotta, che tutti supporteremo perché riteniamo di aver lavorato bene e di conseguenza ci sottoporremo alla valutazione dell'elettorato con la consapevolezza che quello che abbiamo fatto è stato fatto bene, quindi desideriamo continuare. Certo, c'è chi vorrebbe magari il fiorellino nella piazza, nella strada, cose belle, utili, necessarie, però abbiamo pensato e abbiamo puntato più sulla pragmaticità, sulla concretezza, sulla realizzazione di opere infrastrutturali necessarie, utili e indispensabili per il vivere civile. Certo, se a tutto questo poi sommiamo la bellezza, il decoro urbano, eccetera, sono tutte cose bellissime, però non si può basare un'amministrazione comunale sul fiorellino in una strada piuttosto che in una via o in una piazza. Sono delle cose belle, però noi altri siamo stati molto più concreti, lo possiamo dimostrare, lo dimostreremo nel corso della campagna elettorale, dando contezza alle persone, all'elettorato di tutto quello che è stato il nostro operato e il motivo per cui abbiamo il desiderio di continuare su questa, con questi uomini, con queste energie, con queste intelligenze, con queste coalizioni politiche per poter andare avanti e di conseguenza avere l'orgoglio di amministrare un ente con la consapevolezza di chi sta cercando di lavorare bene. Avendo sempre, come prima al primo posto, l'ascolto nei confronti dei concittadini che sono loro i veri detentori di tutto quello che è il patrimonio da tutti i punti di vista e tutti gli sforzi che noi dobbiamo fare sono volti principalmente agli elettori.